Eccoci su Sicilia 24 per una nuova edizione di Spazio Notizia che apriamo parlando del Covid, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino odierno, dunque andiamo a vedere i numeri, i dati. In Sicilia sono 2.117 i nuovi casi di Covid registrati a fronte di 15.027 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività sale ancora e adesso si attesta al 14,1%. La Sicilia anche oggi si conferma al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 88.293, mentre i guariti 4.418. Si registrano purtroppo altre quattro vittime che portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 10.837. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 632, 14 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva ci sono al momento 36 persone e anche oggi il numero è rimasto stabile, così come lo era ieri, mentre in corsia sono, come avete visto, diminuiti ancora i numeri, i dati dei ricoverati, 14 in meno. Questo è un dato stabile ormai da settimane, questo decremento costante, certamente è una notizia importante. Per quanto riguarda infine a livello provinciale, Palermo si conferma la provincia con il maggior numero di nuovi casi, 512, poi Catania 497, Siracusa 337, Trapani 230, poi via via le altre province decisamente più distaccate per quanto riguarda i nuovi casi odierni. Questo dunque il bollettino di oggi del Covid, adesso cambiamo argomento, parliamo di una tragedia avvenuta a Ragusa dove nel primo pomeriggio una persona si sarebbe gettata dal ponte San Vito, sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, l'ambulanza e l'elisoccorso per recuperare il corpo. Vi daremo ovviamente ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni di Spazio Notizia. E un'altra tragedia purtroppo, stavolta un incidente stradale avvenuto invece a Marsala, dove ha perso la vita un giovane 26enne, l'incidente è avvenuto in via Trapani, il ragazzo si è schiantato con la sua auto e pare non ci siano altri mezzi coinvolti. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente, il giovane ha perso il controllo dell'auto finendo fuoristrada ma non è morto sul colpo. Il 26enne infatti è riuscito a chiamare i soccorsi ed è stato trasportato con l'ambulanza in ospedale, purtroppo però è deceduto a causa delle gravi ferite interne riportate. Quindi siamo qui a documentare l'ennesima vittima della strada, l'ennesimo incidente in Sicilia. E un altro incidente fortunatamente senza gravi conseguenze è avvenuto invece a Salina, dove l'intervento si è richiesto l'intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e del quarto reparto volo della Polizia di Stato per recuperare una turista rimasta ferita nell'isola di Salina. L'allarme è scattato intorno alle 13 quando una donna tedesca di 54 anni che faceva parte di una comitiva di ritorno da un'escursione su Monte delle Felci è scivolata sul sentiero riportando la sospetta frattura della caviglia sinistra. La donna è stata quindi trasportata all'elisuperficie di Milazzo dove ad attenderla c'era un'ambulanza del 118 per essere trasferita in ospedale. Ci fermiamo un attimo con la cronaca, riprenderemo nel corso dell'edizione di Spazio Notizia con altre news di cronaca per parlare invece di un evento molto importante per la città di Catania ma non solo, un po' per tutti i devoti di Sant'Agata che domani avranno la possibilità in cattedrale di venerare il busto reliquiario della Santa che verrà esposto. Vediamo il servizio di Lucio Di Mauro. Si è svolta nel Salone dei Vescovi in Arcivescovaldo a Catania una conferenza stampa durante la quale Sua Eccellenza Monsignor Luigi Renna, Civescovo di Catania, ha illustrato lo svolgimento alle modalità dell'ostensione straordinaria del busto reliquario di Sant'Agata prevista per sabato 21 maggio. Alla presenza di Roberto Buonaccorsi, sindaco facente funzione di Catania, Mariella Gennarino, presidente del Comitato per la Festa di Sant'Agata e Monsignor Barbaro Scionti, parroco della Cattedrale. Ringrazio in modo particolare il Comitato, la Presidente e la Dottoressa Gennarino che ha pensato a questo passaggio fra l'ingresso e le navate della nostra Cattedrale, nella quale ci saranno delle persone disposte ad accompagnare questi nostri fratelli. Ma ho sottolineato anche l'attenzione alle varie povertà con un gesto di condivisione che ciascuno di noi, senza sapere quello che la destra fa, senza sapere ciò che la sinistra fa rispetto alla destra, possa fare, perché al Signore e a Sant'Agata sono graditi i gesti di carità. La mia sensazione è quella di chi con molto rispetto e con anche molta devozione si avvicina per la prima volta al busto reliquario e sa che lì ci sono i resti della nostra santa da venerare e attorno ad essa c'è la religiosità e la fede del popolo catanese, nel quale mi sentirò pienamente inserito per la prima volta. E la Sicilia sarà protagonista anche al Festival di Cannes. In occasione della 75esima edizione del Festival è stata infatti inaugurata Casa Sicilia, lo spazio allestito dall'assessorato Turismo Sport Spettacolo della Regione Siciliana e da Sicilia Film Commission, una struttura innovativa e tecnologicamente all'avanguardia che ospiterà attività di promozione turistica della Regione Siciliana ed eventi di divulgazione cinematografica a cura di Sicilia Film Commission. La struttura sarà anche a disposizione del mondo del cinema per tutta la durata del Festival. Fino al 28 maggio, per lo svolgimento di conferenze stampa dei film in competizione, dibattiti, workshop, interviste televisive, shooting fotografici, nonché incontri con la stampa nazionale e internazionale con le star presenti. Dunque una bella iniziativa e certamente una bella cartolina per la nostra Sicilia che quindi sarà protagonista anche al Festival di Cannes. Adesso invece parliamo di calcio. Domani serata importantissimo per il Palermo che sfiderà l'Entella nel ritorno del secondo turno dei playoff di Serie C. Stamane alla vigilia del match ha parlato Mr Baldini in conferenza stampa. Sia Trestina che Entella ha dichiarato sono avversari di livello. Dobbiamo essere bravi a lottare e stringere i denti, ma speriamo domani sera di soffrire meno dell'ultima volta. Dobbiamo pensare di aver perso a Chiavari, ha aggiunto il mister rosa nero, e partire da quello. Dobbiamo essere sereni ma anche feroci. Abbiamo voglia di vincere, di dare soddisfazione ai tifosi. Il Palermo è pronto per andare in Serie B. Dunque un Baldini più carico che mai è pronto ad affrontare questa partita così importante per il Palermo contro l'Entella. Si parte dal 2 a 1 dell'andata per la squadra siciliana e dunque speriamo di poter festeggiare tutti insieme perché il Palermo in questo momento difende un po' i colori della Sicilia per quanto riguarda il calcio e speriamo che la squadra rosa nero possa alla fine riuscire a centrare il grande obiettivo della promozione in Serie B. Adesso parliamo del caso Covisian Almaviva perché il governatore Nello Musumeci ha ricevuto a Palazzo d'Orleans una rappresentanza dei 534 lavoratori Covisian e Almaviva e poi ha inviato una lettera ai ministri del lavoro Andrea Orlando e dell'economia Daniele Franco per mettere appunto in primo piano e attenzionare questo grave problema. È necessario, ha scritto in questa nota il presidente Musumeci, individuare subito un chiaro percorso che scongiuri la perdita del lavoro. La convocazione del tavolo non è più rinviabile, il governo centrale non può rimanere inerte di fronte a una paventata tragedia sociale che metterebbe sull'astrico centinaia di persone in una regione già fortemente provata sul piano occupazionale e che costituirebbe un pericoloso precedente per le migliaia di siciliani impegnati nel comparto dei call center. Torno a rappresentare, ha aggiunto Musumeci, la massima urgenza auspicando l'intervento coeso e decisivo delle istituzioni governative a diverso titolo interessate senza il quale non potrà impedirsi la degenerazione e l'estensione di una crisi occupazionale inaccettabile per i lavoratori e il nostro territorio. Questa dunque la lettera, come detto, inviata al governo, o meglio l'appello di Musumeci al governo per attenzionare la questione molto importante relativa ai lavoratori Covisian Almaviva e dunque vedremo se anche in questa vicenda così delicata e così importante ci saranno sviluppi. Ovviamente ve li daremo nel corso delle nostre edizioni di Spazio Notizia. Seguiremo da vicino questa vicenda. Torniamo adesso a parlare di cronaca, un fatto di stalking avvenuto a Pantelleria, un 35enne finito in manette poiché continuava a perseguitare e maltrattare sia l'ex moglie che l'attuale compagna. Tutti i dettagli nel nostro servizio. I carabinieri della stazione di Pantelleria hanno tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Marsala, un isolano di 35 anni per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. L'odierno provvedimento scaturisce da una minuziosa indagine condotta dai carabinieri dell'isola che tramite l'escursione delle vittime, acquisizione di riferiti e documenti e dopo aver ascoltato alcuni testimoni, hanno portato alla luce le violente e minacciose condotte che l'indagato avrebbe messo in atto nei confronti dell'attuale compagna negli ultimi anni e i comportamenti persecutori che avrebbe riservato all'ex moglie. Le vittime sono coraggiosamente riuscite a denunciare gli abusi dopo aver subito per tanti anni, affidandosi al comandante della stazione che, unitamente a tutti i militari, ha colto ogni elemento utile a ricostruire quelli che sono stati gli atteggiamenti che stravolgevano le vite di queste donne che vivevano nel terrore. A seguito degli atti di rito, l'uomo è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi. Indagine della Guardia di Finanza di Palermo su una società di recupero crediti. Si parla di accesso illegale a banche dati. Nell'inchiesta coinvolti anche dipendenti dell'Inps. In totale gli indagati sono 16. Vediamo il servizio. Tre dipendenti pubblici di Inps e di un comune sardo avrebbero passato dietro compenso informazioni riservate a imprenditori del settore recupero crediti con due sedi, una a Palermo e l'altra a Riccione. L'organizzazione, che aveva ramificazioni in Sardegna, Campania ed Emilia Romagna, è finita nell'inchiesta denominata Interrogazione a sorpresa, condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo. I militari del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria hanno eseguito un'ordinanza del GIP di Palermo su richiesta della Procura. Sono 16 gli indagati coinvolti nell'inchiesta. Sono accusati a vario titolo dei reati di associazione per delinquere, corruzione, accesso abusivo alle banche dati, rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio, nonché responsabilità amministrativa degli enti dipendenti dagli anzidetti reati. Dopo un ricorso al Tribunale del riesame da parte della Procura, sono stati emessi gli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore di Riccione e l'interdizione dall'esercizio di attività imprenditoriale per sei mesi per l'amministratore di fatto della società palermitana. Con lo stesso provvedimento è scattato il sequestro preventivo nei confronti di tre aziende di recupero crediti e la disponibilità finanziaria per un valore di oltre 77 mila euro, che sarebbe pari al profitto dell'ipotizzata corruzione. L'esecuzione delle misure è sospesa fino al momento in cui la decisione diverrà definitiva. Un corriere della droga a un uomo originario del Catanese è stato bloccato a Milano con 47 chili di sostanza stupefacente. Circa 47 chilogrammi di droga tra cocaina e hashish sono stati sequestrati dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania nell'ambito di indagini su un traffico internazionale di sostanze stupefacenti provenienti dalla Spagna e diretti nel nord Italia e in Sicilia. Il primo intervento su indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria è stato eseguito a Milano da finanzieri del locale gruppo pronto impiego che hanno arrestato un 49enne dopo che, durante la perquisizione del SUV che guidava, in un doppio fondo sono stati trovati 12 chilogrammi di cocaina e 16 chili di hashish. In un'altra auto in suo uso sono stati successivamente sequestrati altri 3 chilogrammi di cocaina e 16 chilogrammi di hashish. L'arresto dell'indagato originario del Catanese su richiesta della procura distrettuale etnea è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Questa era l'ultima notizia, ci ritroviamo più tardi sempre qui su Sicilia 24, a dopo.